Abbattute una quarantina di piante nel parco Bonaldi a Crema, con la giustificazione che fossero tutte malate o non in sicurezza. Sono rimasti perplessi i cittadini quando lo scorso marzo hanno visto l'azione massiccia delle motoseghe nel parco e sono rimasti nuovamente stupiti quando hanno assistito al ripiantunamento di alcune di esse in un'area del parco che di norma veniva utilizzata per eventi, iniziative o comunque sfruttata da ragazze e famiglie. Improvvisamente, in particolare su quella collina, si procedeva a tagliare una quarantina di alberi in un parco storico per cui senza essere agronomi o storici dell'arte molti sono rimasti perplessi e si sono chiesti se fosse davvero necessario questa decisione estrema. Ci è stato detto che il censimento arboreo del comune di Crema ha individuato questi alberi come non in sicurezza e quindi era necessario procedere al loro taglio. La perplessità rimane, rimane quella perché neppure i ceppi sono rimasti, gli alberi sono stati prontamente esradicati. Il parco Bonaldi è non solo un polmone verde che necessita di piante ma anche un parco storico, soggetto quindi a progetti che andrebbero rispettati per garantire la tutela delle piante, dell'ambiente e della percezione visiva garantita dal progetto originale che invece così è venuta a mancare. È un tipico esempio di parco romantico della seconda metà dell'Ottocento. Se così è, cioè se ha più di 70 anni, è soggetto a un vincolo ope legis, il codice dei beni culturali parla abbastanza chiaro. Si tratta di valutare se davvero il parco Bonaldi abbia questa storicità o se l'abbia fatto qualcuno l'altro giorno, cosa che escluderei. Chiediamo che il comune verifichi o meglio chieda alla sovrintendenza di verificare che sussista l'interesse storico architettonico. Quindi è possibile inoltrare una domanda di verifica che davvero questo bene abbia questo valore, dopodiché allora si procederà con una manutenzione degli interventi di tutela che ne rispettino le specificità. Il che vuol dire il progetto, il che vuol dire le visuali, il che vuol dire lasciare libero ad esempio questo bellissimo invaso centrale che tipicamente era pensato per far spaziare lo sguardo.